Molte città sono costruite proprio come città dei commercianti vicini con vari il momento e soprattutto vicino a vari guadi. Così c'è merda, cazzelle e conigliori. Diciamo che, peccato, la nostra zona, che è appunto la venta, noi abbiamo la sensazione che è l'ambasciata avaricana per gli altri palazzi. Sì, nè? Come va? Prefetto. Grazie a tutti.